Da marzo ha erogato l'assegno unico e universale per ogni figlio a carico, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. L'assegno sostituisce molte delle attuali agevolazioni e per riceverlo devi fare domanda sul sito IMSS o ai patronati. L'importo base mensile va da 50 a 175 euro e aumenta con diverse maggiorazioni, ad esempio per i figli con disabilità, per ogni figlio successivo al secondo o per le famiglie numerose. Scopri come su au.gov.it. Piedi l'assegno per i tuoi figli e attiva il nostro futuro.